È possibile iniziare a giocare al TCG di One Piece nel 2024? Che step bisognerà affrontare per dare inizio alla propria avventura? E quali saranno i leader che più si adatteranno alle esigenze dei nuovi aspiranti re dei pirati? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il gioco di carte collezionabili di One Piece sta prendendo sempre più piede e moltissimi sono gli appassionati che, vento in poppa, si stanno dirigendo verso la rotta maggiore, intenti a trovare l'isola dove il tesoro di Gold Roger è ancora celato. Ma se da una parte pirati in erba e veterani si stanno dando battaglia tra le acque blu dell'oceano, dall'altra molti altri sono ancora ancorati in porto, indecisi sul da farsi, soprattutto dati gli ultimi sviluppi che hanno visto un innalzamento dei costi delle singole carte con conseguente difficoltà di accesso alle dinamiche del gioco da parte dei curiosi. Per spingere chi ha ancora dei dubbi nel creare la propria storia e iniziando ad avere una taglia sulla testa, tratteremo in questo video i 4 step più uno da affrontare se vorrete iniziare a navigare verso il grande blu, prendendo in considerazione quei punti che potranno fornire un diverso punto di vista a tutti coloro che, al momento, hanno deciso di ammainare le vele. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che, in media, il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i 4 passaggi più uno da svolgere se vorrete iniziare a giocare al TCG di One Piece nel 2024. Andiamo a dargli un'occhiata. Partire dagli starter Lo so, già leggo i commenti che dicono Arconte, non se ne trovano, non c'è nulla di interessante, costano troppo, eccetera. E sono d'accordo con voi, ci mancherebbe altro. Ma non mi stancherò mai di ripetere che, se volete iniziare, da qualche parte dovrete pur iniziare. Ad esempio, in circolazione ci sono gli starter deck di Yamato e Luffy Nero, ve li lascerò in descrizione. In più, se vi farete un giro su Car Market o Car Trader, nella sezione dedicata sono certo che riuscirete a mettere le mani su uno dei deck precostruiti appartenenti al passato, fornendovi anche una buona base di partenza, per la costruzione di un deck che potrà dire la propria in eventi locali che vi vedranno protagonisti. Altrimenti potrete optare per uno dei leader che, nel meta di riferimento dato dal set corrente, potrà darvi una validissima alternativa ai tipici Tier 1 o 2. Costruire un deck alla portata delle proprie economie Vero che le carte attualmente sono aumentate di prezzo, rendendo addirittura Belobetti e Rebecca costose rispetto al passato. Ma non bisognerà guardare solamente a queste ultime per avere una soluzione economica. Ad esempio, il kid picchiatore non costerà assolutamente nulla e la sua strategia sarà semplice, attaccare unicamente con il leader due volte a turno. Stessa cosa per Kinemon o Oden, che proporranno delle profile vecchiotte ma che daranno del gran filo da torcere ai deck di fascia alta. Stessa cosa per Luffy Rosso e Zoro, che rappresenteranno per voi una bella soluzione soprattutto se deciderete di costruire lo spadaccino. Ovviamente avrà un costo leggermente più elevato rispetto agli altri appena menzionati, ma l'aggro non muore mai. Per farla breve e ricollegandomi al primo punto, iniziate, anche se con un leader che non si sposerà affatto con il vostro stile di gioco. L'importante per voi sarà dare il via all'avventura, misurandovi con avversari più forti così da conoscere anche il meta che vi ritroverete a giocare. Partecipare ai tornei organizzati per accumulare buoni da spendere atti ad aumentare la propria raccolta. Questo passaggio sarà fondamentale per darvi la possibilità di recuperare carte leggermente più costose. Diverse volte, soprattutto in altri TCG, ho trovato giocatori, io in primis, che sono partiti letteralmente da un tematico, fino ad arrivare ad avere una raccolta che, con gli anni, è diventata più grande e fornita di carte utili per montare deck sempre più forti. Partecipare agli eventi organizzati della vostra fumetteria di fiducia vi consentirà di piazzarvi a premio, accumulando col tempo dei buoni da spendere. In questo modo potrete iniziare a recuperare gli elementi fondamentali che faranno parte di un altro deck così da portarvi avanti, anche per l'utilizzo di altri leader presenti in gioco. Non pensate di poter vincere, soprattutto se sarete alle prime armi e con mazzi che non performeranno alla grande. Quello che dovrà interessarvi maggiormente sarà dare il meglio in torneo cercando di fare piazzamento. Ci sarà comunque la possibilità durante i shield di portarsi a casa il primo posto, dando un boost non indifferente al vostro tesoretto personale, che così potrà essere speso come meglio crederete. Ma nel frattempo, godetevi l'esperienza ludica e apprendete dai vostri errori potenziando le capacità di gioco incontro dopo incontro. Quindi informatevi con il rivenditore di fiducia presente nella zona per sapere se ci sarà la possibilità di accumulare un buono e soprattutto se avrà carte a disposizione su cui spendere tale buono. Acquistare le singole il prima possibile. Ho notato in questi 5 set passati che appena usciti le carte più rappresentative presenti in essi non avevano un costo relativamente alto, calcolando che i borsalino appena pubblicato Paramount War si trovavano attorno ai 3 euro l'uno e Katakuri Secret con Pillars sui 15-20 euro. Il mercato ha iniziato ad avere un rialzo dopo diversi mesi dall'uscita di tali carte, soprattutto in previsioni di metafuturi che vedevano, come per l'ammiraglio, un utilizzo smodato anche e soprattutto nei leader di prima fascia. Quindi, come la storia ci insegna, recuperate quanti più character, stage ed event possibili, preferibilmente in 4 copie, entro le prime settimane, massimo un mese dalla pubblicazione del set. Ad esempio per Sabo di OP04, se desideravate acquistare il playset, con 24 euro a volte vi dovevano anche dare il resto, mentre ora, con la stessa cifra, ne prenderete la metà, dato che attualmente si trovano a 11 euro l'uno di media, fonte Car Market. Quindi non perdete tempo a ricercare i box, o per meglio dire, se le avrete presi, buon per voi ed in bocca al lupo per lo sbustaggio, ma se così non sarà, focalizzatevi sulle singole gestendo nel migliore dei modi il vostro budget. Questi sono i 4 punti che mi sento di consigliarvi, partire dagli starter, costruire un deck alla portata delle vostre economie, partecipare ai tornei organizzati per accumulare buoni da spendere, atti ad aumentare la propria raccolta ed acquistare le singole il prima possibile. Ma oltre a questi c'è un plus, che il più delle volte mi ha salvato da brutti scherzi dovuti all'aumento del prezzo delle carte, che, se visionato in tempo, potrà darvi un quadro generale della direzione da dover prendere in previsione di un nuovo set in arrivo. Dare uno sguardo al meta asiatico Già, vedere come stanno andando i diversi leader nel continente del sollevante vi mostrerà in anteprima a quali carte dovrete dare maggiormente attenzione, soprattutto perché, stando uno o due set avanti rispetto all'Europa e all'America, ci sarà una visione d'insieme maggiore. Ad esempio, Uta o Moria, in arrivo nelle prossime espansioni, potranno essere un buon punto di partenza per osservare quali elementi li renderanno così pericolosi, assicurandovi tali carte da ottenere nell'immediato una volta che oppizzero 6, 7, 8, eccetera, arriveranno anche sui nostri tavoli da gioco. Ad esempio, parlando per esperienza personale, sapevo che Luci costo 4 e le Rebecca Blocker sarebbero stati un perno principale per il mazzo del grande ammiraglio e ho recuperato tutti ed 8, 4 per parte, a meno di 40 euro. Ovviamente, se non avrete già una base di partenza, avere solo alcuni character risolverà poco, quindi vi do un ulteriore consiglio. Vedete se per un set di riferimento ci sarà un leader che possiederà un deck dove tutte le carte o la maggior parte di esse apparterranno all'espansione in questione, così da concentrarvi su un singolo archetipo senza disperdere troppo le proprie forze economiche. Per farvi un esempio, come è successo per Rebecca, blu-nero in OP04, per intenderci. Concludendo, facendo vostri questi 4 step più 1, abbatterete di molto le barriere che vi hanno impedito di sedervi ai tavoli da gioco vestendo i panni di uno dei personaggi della serie capolavoro realizzata dal maestro Oda, e mi auspico che potranno tornarvi utili per approcciare le dinamiche di questo TCG in modo efficace e divertente. Perciò dateci dentro e iniziate il vostro viaggio verso rotte sconosciute, scatenando il pieno potenziale del deck che deciderete di impiegare, vincendo quante più battaglie possibili andando alla ricerca del tesoro più ambito. E voi avete già utilizzato a vostro favore uno o più degli step illustrati in questo contenuto? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.